I incontri sono stati tanti, sono stati anche lunghi e sono stati proficui, tra cui l'incontro con il capo del Movimento 5 Stelle, Vice Premier e Ministro dello Sviluppo e del Lavoro di Maio, qua l'abbiamo discusso per un'oretta di tante cose. Ovviamente essendo il primo incontro da quando è Ministro, in alcune questioni siamo entrati nel concreto, in qualcuna addirittura nel dettaglio, in altre abbiamo messo in campo i titoli. Però se questo è l'inizio della cooperazione istituzionale tra la città di Napoli e il Governo, posso dire che ieri, almeno per quanto riguarda le persone che ho incontrato, è davvero un buon inizio. Sono molto soddisfatto sia dell'incontro con Di Maio, sia dell'incontro con la Vice Ministro Laura Castelli, con la quale siamo entrati nel concreto sulla questione di autonomia ed enti locali, sia per quanto riguarda una serie di dossier delicatissimi della città con Vincenzo Spadafora e per l'ambiente abbiamo discusso davvero a lungo, per un'oretta anche con il Ministro Costo, in incontri importanti, lavoro, abbiamo parlato di lavoro con Di Maio, di vertenze concrete. Io sono molto soddisfatto del resto, quindi l'inizio è molto buono. Adesso ci attendiamo fatti su alcuni punti che loro sanno, credo che già nel mese di luglio ci saranno delle risposte e questo non potrà che aumentare il livello di cooperazione istituzionale tra la città di Napoli e il Governo. Credo, almeno questa è la ipotesi concreta, però ipotesi, quindi c'è concretezza ma non è certezza, è un'ipotesi, si può lavorare su alcuni obiettivi da raggiungere a luglio, importanti, e obiettivi più strategici, ancora più importanti da raggiungere in autunno, in particolare con la legge di bilancio. Quindi c'è un'interrogazione forte con l'Anci, ma c'è un'interrogazione molto forte anche con la città di Napoli, quindi le due cose viaggiano insieme, ma noi abbiamo portato dossier rampi che vanno dalle questioni strategiche del lavoro della città, allo sviluppo economico, a Bagnoli, al territorio, alle universie, agli enti locali, ai depositi petrolici, abbiamo parlato di tutto, di porto, quindi si sono messi tutti i titoli o molti titoli in campo, quindi perciò è un incontro importante, adesso l'obiettivo di luglio però è questo degli enti locali, noi auspichiamo un provvedimento legislativo entro la fine di luglio, questa è la richiesta del Lanci e questa è la richiesta forte della città di Napoli e dall'interlocuzione che ho avuto su questo punto, oggetto del colloquio sia con Di Maio che con la Castelli ho buone ragioni di ritenere che queste persone hanno la sensibilità giusta e la volontà politica giusta per affrontare questo tema e da Napoli avranno il più alto livello di cooperazione possibile. Quindi potrebbe vedere la luce, un testo? Un testo a luglio ovviamente su una parte dei temi, che gli altri poi c'è bisogno. Che parte del concetto delle autonomie e comprenda anche i provvedimenti specifici su debito e liberatori finanziari. Ci sono alcune questioni un po' più finanziarie e bisogna spostarle in autunno, alcune questioni normative che però sono vitali per gli enti locali si possono affrontare già a luglio.